Giornata da dimenticare per l'aposillipo di pallannuoto che rimedia la seconda sconfitta interna contro l'astranuoto Roma di Maurizio Mirarchi, incassando tre golli in ogni quarto dell'incontro. Finisce 10-12 con un tempo il primo regalato agli avversari e con altri tre tempi di sostanziale equilibrio con i parziali di 1-3, 4-3, 3-3, 2-3. Un risultato inaspettato, le parole di Roberto Brancaccio al termine della terza giornata di A1. Ascoltiamolo. Inaspettata sì, abbiamo pagato subito l'inizio brillante della Roma che si è portata sul 3-1, ma va il grande demerito nostro, ovvero penso abbiamo giocato realmente una brutta partita. Non come l'avevamo preparata, non come eravamo organizzati, abbiamo subito tanti contropiedi, cosa che abbiamo preparato durante la settimana. Ci saranno due giorni per riprendere la strada giusta ed arrivare al meglio ad un'altra partita importante contro la Roma-Visnova in programma sabato 14 ottobre.